Io accolgo tutti. 9 aprile 1971. Figli miei cari, eccovi qui in comunione di cuore e di spirito a darmi consolazione e ad intercedere, per i vostri fratelli, grazie, pace, salute e serenità. Io sono in mezzo a voi perché sono l'oggetto del vostro amore e della vostra riparazione. Sono il vostro Gesù di misericordia che vi preparate a festeggiare solennemente. Io spando in questo luogo infinite grazie. Io tocco i cuori e li porto a conversione. Per alcuni, l'essere venuto qui anche una sola volta, è stato sufficiente per ritrovare la giusta strada, poiché la mia dolcissima mamma mi va continuamente supplicando per tutti, ma in particolare per coloro che nutrono fiducia nella mia infinita misericordia. Altri vengono più volte e si perfezionano sempre di più, poiché la mia mamma, come maestra, li istruisce e li illumina. Questo è un luogo di grazia, ma ciò che più porta benefici a tutti è l'amore che vi affratella e la preghiera comunitaria. Io accolgo tutti con infinita tenerezza dalle mani di lei, che sa rivestire tutti di quel manto di grazia di cui ella è il canale. Non vi posso, dunque, che benedire ed assicurarvi che sarete esauditi nei vostri desideri. Vorrei però che le vostre volontà fossero guidate dalla mia, per potervi concedere veramente tutto ciò che è bene per voi. Continuerete per più ore le vostre invocazioni. Vi unirete i vostri sacrifici, che saranno avvalorati dai miei di quella notte di dolore, e sarà tutto un succedersi di doni scambievoli. Nessuno deve lasciarsi dominare dalla sfiducia o dalla mancanza di fede, poiché ognuno avrà la sua parte. Ricordate le parabole del Vangelo? Ancora io sono qui come il buon pastore, come il samaritano, come il padre del figliol prodigo, e sono qui per dare a tutti una ricompensa giusta, adeguata parzialmente ai vostri meriti, ma soprattutto alla mia bontà. La ricompensa qualche volta la dono subito, altre volte più tardi, altre volte la riservo all'ultimo giorno. Voi lasciatemi fare, poiché io so ciò che vi conviene in questa e nell'altra vita. Vivete in pace con Dio mediante la grazia, in pace con voi stessi per quella rettitudine che vi fa agire onestamente, in pace col prossimo mediante quella donazione reciproca che vi renda capaci di portare gli uni i pesi degli altri. Alla fine di questa nottata, vi esprimerò un desiderio che sarà per me un impegno. Intanto vi benedico e vi aumento la fede, perché mi possiate vedere e sentire vivo in mezzo a voi.